Warren Buffett è uno dei più famosi investitori del mondo. Cosa fa Buffett? Alleggerisce il portafoglio vendendo parte delle sue azioni Apple. Cosa fa Apple? Lancia Apple Intelligence e le azioni schizzano. Risultato? Warren Buffett manca un guadagno di 4 o 5 miliardi di dollari. Commento di chi guarda il dito? L'oracolo ha sbagliato. Commento di chi guarda la luna? L'oracolo la sa lunga perché al di là della spiegazione di Buffett, che voleva più liquidità, la lezione che ormai da decenni ci insegna con le sue strategie è chiara. Azionario, lungo periodo e qualità. Non speculazione quindi, ma scelte ponderate e tanta pazienza. Ah, la sua società di gestione dal 1964 a fine 2023 ha guadagnato il 4 milioni 384 mila 748 per cento. Nello stesso periodo, l'indice S&P 500 ha guadagnato il 31.223 per cento, 140,4 volte meno. E tu? Vuoi guardare il dito o la luna?